Io assisto. Io assisto Titta e Agnese che hanno 50 anni. Lui è rattrappito dalla sclerosia placche come l'olivo che nel Gezzemani ricorda lo spasimo di Cristo. Agnese è la sorella che lo cura e gli fa tutto. Solo lei è capace di capire ciò che Titta dice. Intorno a loro c'è l'immensa periferia della città dove ognuno se ne frega. Che dovrebbe fare Agnese? Sbattere il fratello in ospedale e aspettare la sua morte? Intanto deve andare a lavorare e Titta rimane per tutta la giornata nel suo corpo malato. Per i due fratelli ci sarebbe solo la disperazione da farne una pistola. Invece sapete quale frase di Titta mi ha tradotta Agnese giorni fa? Ho fiducia che questo dolore non sarà perduto. Commento. Niente va perduto, e meno che mai il dolore? Come potrebbe, se il dolore giunge per farci scoprire un nuovo essere?